Sono riprese all'alba di questa mattina le ricerche in mare di Mohamed, il 14enne marocchino inghiottito dalle onde ieri mattina attorno alle 12.30 all'altezza del molo nord del porto di Giulianova, dove si era ribaltato con il materassino su cui stava facendo il bagno assieme ad un amico. Il gruppo sommozzatori dei vigi del fuoco, gli uomini della croce rossa della capitaneria di porto di Giulianova, hanno ripreso le ispezioni con ogni mezzo nella speranza di individuare il corpo del 14enne dichiarato disperso e di cui è stato ritrovato soltanto il costume. Sono stati scandagliati fondali al ridosso del nuovo braccio portuale giuliese ma anche le acque antistanti il tratto nord della spiaggia di Cologna, ricerche che però hanno dato esito negativo. Sull'episodio sta indagando la capitaneria di porto che ha ascoltato la versione dell'amico di Mohamed, anche lui di origini nordafricane. I due avevano preso il largo su un materassino tra gli stabilimenti Malibu e Alta Marea ma poi il vento forte di Tramontana, fino a 13 nodi, li ha spinti verso nord al ridosso del molo dinanzi allo stabilimento Arlecchino. Probabilmente è stato un'onda a ribaltare il materassino, a quel punto uno dei due è riuscito a guadagnare la riva e a raccontare tutto ad un bagnino. Anche su eventuali ritardi nella tempistica di allarme stanno indagando gli uomini della capitaneria coordinati dalla procura di Teramo perché, secondo una prima ricostruzione, i soccorsi sarebbero stati chiamati solo un paio d'ore dopo il fatto. Ormai vane le speranze di ritrovare in vita il 14enne residente a Teramo che era l'ultimo giorno di mare prima della partenza per il Marocco.